La situazione attuale in Unicredito presenta determinate problematiche, in questo momento in particolare si ha la sensazione che l'azienda stia procedendo un po' al buio, che non abbia chiaro dove vuole arrivare o meglio, l'unico aspetto forse chiaro è quello che si deve disfare di un certo numero di lavoratori. Questo progetto, e mi riferisco all'SSC, progetto che se non ricordo male è datato 2009, quando fu fatta la cessione di ramo di impresa, si disse e venne messo nero su bianco perché era una delle premesse dell'accordo stesso, che quanto nasceva era strategico e fondamentale per il gruppo. Lo Share Service Center, o SSC, che dir si voglia, è frutto di una cessione di ramo d'azienda effettuata nel 2009. Questa società opera nel campo amministrativo e segue praticamente tutte le tematiche e l'operatività di tempo amministrativo riferite al personale di tutto il gruppo Unicredit. Quindi sarebbe nata una società strategica, oggi improvvisamente questi aspetti vengono smentiti. Qualche mese fa, da parte dell'azienda, è arrivata una prima informativa in merito a uno studio di fattibilità relativo a una possibile costituzione di una nuova società, una nuova GNUCO, come la definisce il management aziendale, con Jule Packard, che è la seconda società a livello di importanza mondiale nel campo dell'hardware e del software. Credo che due siano qua i problemi. Il primo, l'azienda evidentemente a distanza di così pochi anni o di così poco tempo non può cambiare radicalmente opinione. Oltretutto stiamo parlando di un numero di risorse non elevate. Secondo problema, ci stiamo privando di competenze o l'azienda intende privarsi di competenze che in realtà sono fondamentali, così come lo erano quando venne fatto l'accordo. Questa società verrà costituita, avrà già addirittura, secondo le comunicazioni che ci ha dato l'azienda quest'ultimo venerdì 2 settembre, una percentuale del 51% di Jule Packard e del 49% del gruppo Unicredit. Il personale interessato è formato da circa 230 persone, in parte situate a Milano, in parte situate sul polo di Roma. La cosa ci crea criticità, dei problemi, perché non sappiamo esattamente cosa ci riserve il futuro. Se la nuova società che nascerà il primo di novembre, tra l'altro che sarà anche la data prevista per la nascita di una nuova società che in gergo nell'ambiente viene denominata consorzione, che interesserà circa 5.700 dipendenti. Anche qui nell'ambito di una riduzione dei costi che, secondo noi, porta a diverse perplessità. I colleghi sono preoccupati, le organizzazioni sindacali anche. La Fabi, come tante altre volte, si pone questo problema proprio perché si è resa conto che il tempo delle trattative e delle relazioni industriali con questa azienda è cambiato notevolmente e quindi, visto anche l'importanza delle tematiche sul campo lasciate in sospeso, non da ultima quella degli inquadramenti, che è scaduto praticamente tutto il 31 di luglio, la Fabi si è resa conto che in questo senso non si può andare avanti così e quindi è il caso di dare un segnale forte a questa azienda. Non da ultimo devo dire che nel caso dalle SSC è stato proclamato uno sciopero il 21 di luglio che ha avuto un esito positivo in quanto ai lavoratori c'è stata un'adesione quasi totale, parliamo del 98% dei lavoratori che hanno aderito. Già un inizio per dare un segnale a questa azienda che questa operazione non ci piaceva, l'azienda è andata avanti per la sua strada. Noi quindi abbiamo deciso nella tarda serata di venerdì scorso 2 settembre di proclamare lo stato di mobilitazione di tutti i lavoratori e di tutte le società del gruppo. Vedremo la situazione come evolverà, in ogni caso questo rappresenta lo stato del malessere che in questo momento i dipendenti dell'azienda del gruppo sentono sulla propria pelle. Tutta la delegazione trattante è assolutamente d'accordo nel non lasciare nulla di intentato e anzi di effettuare tutte le iniziative possibili affinché si arrivi a una soluzione condivisa.